Domenica 24 e lunedì 25 giugno si vota per il secondo turno delle elezioni comunali. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 del primo giorno e dalle 7 alle 15 del lunedì e contestualmente alla loro chiusura inizieranno le operazioni di spoglio delle scade elettorali. In totale, su 3.708 comuni italiani che sono andati al voto l'8 e il 9 giugno scorsi, soltanto il 3%, 107 comuni, andranno al ballottaggio questo weekend. In Toscana si voterà in 18 comuni, tra cui il capoluogo Firenze, dove gli elettori dovranno scegliere tra la candidata di centro-sinistra Sara Funaro e il candidato di centro-destra Eike Schmidt. In provincia di Firenze ci sono poi altri 5 municipi ancora da decidere, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Empoli, Filline Inciso Valdarno e Signa, per un totale nell'area metropolitana di quasi 500.000 cittadini interessati dalle sorti di questo secondo turno. Gli altri 200.000 abitanti coinvolti dal voto risiedono in altre 5 province toscane. In quella di Livorno si trovano 4 comuni, Cecina, Colle Salvetti, Rosignano Marittimo e Piombino, partite decisive per un'area della Toscana cruciale per lo sviluppo sia turistico che infrastrutturale. Discorso non diverso in termini di impatto economico per i tre comuni del Pisano, in cui domenica riapriranno i seggi, Pontedera, Ponzacco e San Mignato. In provincia di Pistoia si decideranno le sorti di Monte Catini Terme e di Agliana e nel Senese si voterà a Colle Valdelze e Poggi Bonzi e infine a Cortona, in provincia d'Arezzo. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco o in alternativa su uno o più liste a lui collegate. Per il ballottaggio infatti non è previsto il voto disgiunto, per cui non si può scegliere un candidato insieme a una lista collegata all'altro. Vince chi raggiunge il 50% dei voti più uno.